Salve a tutti, bentrovati, sono Luisa Fumia. Dopo la stagione estiva possiamo cominciare a parlare di peeling chimico, il numero uno, il principe dei trattamenti. In questo momento post estate, man mano che la bronzatura andrà via, superata questa fase, la pelle si presenterà più grigia, spenta, notevolmente macchiata. La patina scura che sarebbe la bronzatura è formata di un accumulo di cellule morte, colorate perché piene di melanina. Prolungare la bronzatura significa bloccare il rinnovamento cellulare. La pelle è un organo dinamico, ogni giorno lo strato corneo elimina attraverso un processo fisiologico un numero infinito di cellule cheratinizzate. Nello stesso tempo, dallo strato basale, nuove cellule iniziano la loro risalita verso lo strato corneo. Il peeling chimico ha la funzione di accelerare questo processo fisiologico così da dare vita alla pelle. Il turnover cellulare stimola la produzione di collagene contrastando l'acchine e il batterio responsabile, inoltre depighimente la pelle regolando la tirosinasi. Gli acidi da poter utilizzare sono tre, superficiale, medio e profondo. Quello che verrà utilizzato dipenderà esclusivamente dalle condizioni che vanno attentamente valutate a seguito di una consulenza approfondita da parte dell'operatrice. Spero che questa nozione sugli acidi vi siano state utili per capire lo stato di salute della vostra cute. Se volete saperne di più, prenotate una vostra consulenza allo 0932 246085 o scrivi al 3275 5631975. Adesso vi saluto con un abbraccio e a presto. Ciao! Ciao!